Buongiorno a tutti da Giampaolo Alparone. Oggi l'argomento è l'ultimo libro, l'ultimo romanzo di Giuseppina Torregrossa. Giuseppina Torregrossa è una scrittrice palermitana che ha al suo attivo più di una decina di libri, il Conto delle minne, la ricetta segreta di Casa Olivares, il Sanguinaccio dell'Immacolata, non si possono citare, e che normalmente ambienta i suoi libri in Sicilia, a Palermo. Non tutti gli ultimi due, per esempio, fanno riferimento a un ciclo che è ambientato a Roma, ma comunque Giuseppina Torregrossa è sempre molto, la sua narrativa è sempre molto legata alla sua terra d'origine. Lei, peraltro, è un medico, vive tra Roma e Palermo. Io l'ho anche conosciuta perché mi ha concesso due interviste su due suoi libri recenti ed è, la ricordo sempre con piacere, è veramente una signora, una signora molto bella, una signora molto autorevole e, diciamo, seguo le uscite dei suoi libri con interesse perché li trovo sempre tutti molto piacevoli, sia quelli, diciamo, dal tono, se vogliamo dire così più leggero, sia quelli, come dire, più ispirati, come quest'ultimo, Giuseppina Torregrossa, con quest'ultimo suo libro, io credo che abbia sorpreso tutti, il titolo si chiama, il titolo è La Santuzza è una rosa, uscito da pochi mesi per i tipi di Feltrinelli ed è un romanzo storico. Allora, siamo a Palermo tra il 1613-14 e il 1624. Alle mie spalle c'è una rappresentazione dei quattro canti nel centrisimo di Palermo, siamo esattamente, ed è un'architettura esattamente di quel periodo lì. Siamo nella Palermo spagnola del Seicento e contro l'informistica del Seicento. La città è amministrata da un vicere spagnolo, meglio, un vicere che governa per conto del re spagnolo, nello specifico il vicere è Emanuele Filiberto di Savoia, Emanuele Filiberto non quello di Piazza San Carlo, i Savoia ogni due per tre si chiamano Emanuele Filiberto, questo è un altro Emanuele Filiberto che ha fatto il vicere a Palermo e poi è morto di peste. La società palermitana è una società spaccata, tra una aristocrazia che è troppo privilegiata e ricca e un popolo che invece è troppo povero e miserabile. E a fare da collante ci sono i gesuiti, i religiosi, i gesuiti. Uno in particolare, che si chiama Padre Cascini, che in realtà è un personaggio storico documentato. E la Torregrossa ne fa uno dei personaggi del suo romanzo. Personaggio storico documentato perché dunque in questo libro si parla di Santa Rosalia, ossia della creazione a un certo punto nella Palermo spagnola del Seicento della figura di Santa Rosalia come patrono della città. C'erano già altre sante per Palermo, ma nessuna aveva, nessuna santa aveva un grosso seguito popolare. Quindi viene fatto questa operazione di carattere sociale e politico, ma sostanzialmente un'operazione religiosa nell'istituzione di una nuova santa. Operazione che storicamente riuscì benissimo perché non c'è, se uno pensa a un santo o una santa con un seguito popolare, non c'è di meglio che Santa Rosalia come seguito popolare. E questo libro parla della creazione, di come si arrivò alla generazione di questa figura. Padre Cascini, da un punto di vista storico, fu il religioso che quando si trovarono le presunte spoglie sul Monte Pellegrino, dietro Palermo, di Santa Rosalia, venne incaricato di farne, diciamo così, una perizia di autenticità. E poi scrisse un trattato, un libro sulla vita di Santa Rosalia. Nella finzione del romanzo di Giuseppina Torregrossa, padre Cascini è provinciale dei Gesuiti a Palermo ed è uno dei personaggi principali del libro. Un altro personaggio è Vincenza, Vicuzza, una ragazzina, o meglio il libro copre un arco temporale di circa dieci anni, quindi all'inizio Vincenza è una ragazzina, una ragazzina brutta, molto povera, che vive nei bassi di Palermo, che subisce una violenza, uno stupro, rimane incinta, diventa una ragazza madre. Il libro ne segue il percorso per una decina d'anni e Vincenza ha modo, in quest'arco di tempo, di fiorire, di diventare una donna. Dice la Torregrossa che ha delle espressioni spesso insieme eleganti e realistiche, non sono uno simbolo, per la Torregrossa non è un simbolo essere elegante e realistico. Dice che Vicuzza era una donna, giovane donna brutta, di una bruttezza antica che si portava dietro secoli di miseria. E poi, oltre a padre Cascini, a Vincenza, c'è la figura di Santa Rosalia, che è una figura, della Torregrossa, vera ma non reale. Lei vuole alludere sia a una realtà di tipo spirituale, per cui per un fedele, una santa è una figura vera, sicuramente, perché se uno ci crede, ma non reale perché non è della realtà materiale di questa terra. Alludendo anche, in questo modo, da parte della Torregrossa, a quello che disse quel signore, che poi è il grande maestro di ogni narrativa, che la narrativa, tutto il mondo della narrativa, i personaggi, tutto il mondo della narrativa, è un mondo che è vero, più vero della realtà, più vero della storia, perché la narrativa è più universale. Felicissima espressione di Giuseppina Torregrossa quando Santa Rosalia dice di sé sono un personaggio vero ma non reale. Viene messa in scena, in qualche modo, l'amicizia tra Vincenza, la vicuzza, questa povera ragazza madre, e Santa Rosalia, Antelitteram, prima che diventasse santa, che fosse canonizzata. Ed è un romanzo sotto molti aspetti sorprendente. Io mi sono avvicinato a questa storia con un po', con qualche sospetto, nel senso che sulla carta non era una cosa che mi affascinava, una storia del Seicento che ricostruiva la storia di Santa Rosalia. Di fatto, la scrittura della Torregrossa è una scrittura che secondo me non si può non amare, nel senso che è una scrittura molto fresca, molto veloce, molto leggibile, e allo stesso tempo è una scrittura piena di tensione, piena di contenuti emotivi. La Torregrossa è veramente una scrittrice. Lei è una persona, una vera signora, una persona elegante, una bella signora, una signora elegante. La sua scrittura è piena di fremiti e di tensione emotiva. È veramente una scrittura, pur nella pulizia formale, barocca da un punto di vista del sentire poetico. E quindi è sempre intonata su un grado di intensità emotiva molto elevata. E dunque si racconta della vicenda di Vincenza e di Santa Rosalia. Ecco, è un libro che è pieno di aspetti sorprendenti, intanto perché è una vicenda che viene narrata con toni assolutamente molto realistici e con un ampio spazio a quella che è la descrizione delle situazioni emotive nel nel solco tipico dello stile di Giuseppina Torregrossa. In altri libri Giuseppina Torregrossa, diciamo, è diventata anche, se vogliamo dire così, famosa per i suoi riferimenti gastronomici. In questo libro mancano un pochino, salvo che nella rappresentazione di, diciamo, di un pranzo molto importante a cui partecipa il pittore Van Dyck, personaggio storico attestato nella vicenda di Santa Rosalia. Anzi, sembra, ho letto, che proprio l'origine, l'idea di questo romanzo sia venuta a Giuseppina Torregrossa dopo che ha visto a New York un quadro proprio di Van Dyck, la cui presenza a Palermo in quegli anni è attestata, che ha per soggetto proprio Santa Rosalia. Dunque, c'è questo pranzo a cui partecipa il pittore Van Dyck, dato in casa di Sofonisba Anguissola, pittrice cremonese sposata in seconde nozze e poi trapiantatasi a Palermo, quindi altra figura storica attestata intorno alle cose che riguardano Santa Rosalia, e che nella finzione del romanzo di Giuseppina Torregrossa fa un po', diciamo, il genitore addottivo di Vincenzo. Ed è un pranzo, un pranzo palermitano, di cui si dà soltanto il menù e fa venire la collina in bocca, il timballo di riso, falso magro, torta di ricotta, insomma una cosa. Poi siamo sotto Natale, è facile essere preda di queste cose evocative. Un'altra caratteristica abbastanza tipica nella narrativa di Giuseppina Torregrossa è la narrazione legata al desiderio, al desiderio sessuale. Qui siamo in una storia dove ci sono tante cose insieme, ma comunque una storia realistica. Su questo tema c'è un passo bellissimo che rievoca la sensazione di attesa, di attesa di un incontro sessuale nelle parole del personaggio di Sofonisba Anguissola quando aspettava l'arrivo del suo secondo marito. Cito solo la pagina per chi ha interesse, pagina 189, ed è una scena veramente bellissima, solo schizzata come un disegno, abbozzata da un punto di vista della descrizione, di un'intensità fortissima e di un pienissimo senso emotivo, una scena che secondo me è densamente sessuale, che è il contrario di una scena porno. Un capolavoro, 4-5 righe bellissime. Poi c'è Palermo, che è sempre molto ben rappresentata, rappresentata in modo molto vivo, con i suoi colori, con i suoi profumi, con le sue sensazioni. E' sempre di fare un viaggio nella città attraverso le pagine del libro di Giuseppina Torregrossa. E poi c'è, all'inizio del libro, un'inserzione che a me è piaciuta veramente tantissimo. Ed è, diciamo, una citazione che viene messa quasi improvvisamente all'interno del libro, messa in bocca nelle parole di padre Cascini a un gruppo di giovani ragazze e madre, che riporta testualmente nelle parole «Non insistere con me perché ti abbandoni». Ed è la citazione della preghiera di Ruth, presa di peso dal libro di Ruth, che è uno dei gioielli della Bibbia, uno dei pezzi di narrativa più belli di sempre, e che impreziosisce, secondo me, il libro. Ed è una citazione che viene fatta in un ambiente, in un contesto completamente diverso da quello del libro di Ruth, ma che ha il grandissimo valore, secondo me, nell'intelligenza compositiva del libro che ha voluto dare Giuseppina Torregrossa, di mettere nelle mani del lettore un'occasione per andare a riprendere il libro di Ruth, che è un gioiello universale della narrativa di tutti i tempi e che vale la pena di andare a riprendere, e che è messa lì non a caso, perché in qualche modo, per un verso, parla dell'amore, di che cos'è l'amore, che è un qualcosa di, anche dal punto di vista della narrativa, molto abusato come termine, e poi perché ha un significato, come in qualche modo un po' tutto il libro, anche sociale e politico. La storia di Ruth è quella di una donna moabita, e quindi una straniera per Israele, che però nello spirito universalistico del Dio dei profeti viene non solo accolta in Israele, ma addirittura entra nella genealogia del Messia, è una straniera, e quindi è un passo che, secondo me, è messo lì non a caso, e che ci ricorda che il fondamentalismo etnico, il fondamentalismo religioso, è qualcosa che non passa mai di moda, e che è una malattia che non ha paese, che non ha bandiere, che non ha età, e che riguarda assolutamente, purtroppo, tutti noi, nessuno escluso. Ecco, tutte queste cose messe insieme, tutti questi stimoli molto diversi, in un contesto un po' da brivido, la ricostruzione di una santa in età secentesca, fanno di questo libro un, secondo me, un libro che vale veramente molto la pena di leggere, un libro che al contempo è un libro elegante, semplice e profondo. Buona lettura a tutti. Grazie a tutti.